L'appuntamento con l'eccellenza di Harvard Business Review Italia. Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con l'eccellenza di Harvard Business Review Italia. Oggi incontriamo Guido Stratta, fondatore e presidente dell'Accademia della Gentilezza e Luca Brambilla, direttore dell'Accademia di Comunicazione Strategica. Guido e Luca sono autori di un recente libro dal titolo Leadership Gentile, su cui peraltro abbiamo pubblicato nei giorni scorsi un articolo nella nostra edizione online. Allora, Guido e Luca, Luca e Guido, entriamo subito in argomento. Perché un libro che invita a mettere la gentilezza al comando e qual è la correlazione con la comunicazione strategica? Chi incomincia? Enrico, io penso che... Allora, penso sempre su questo che da gentile devo passare la parola ai giovani. Quindi lascio a Luca pronto a prendermi le colpe. Benissimo. Allora, contento di iniziare perché l'idea di questo libro effettivamente è stata mia, che dopo aver letto il primo libro di Guido, Rievoluzione Gentile, ho pensato di andargli a chiedere di proseguire dopo anni la sua storia arricchita dopo anni di case history, di ulteriori riflessioni. E quindi il libro effettivamente è un libro a dialogo dove io faccio domande a 360 gradi sul tema della leadership gentile, come è nata, come si è sviluppata, e poi i scenari futuri, il tema della sostenibilità, il tema dell'intelligenza artificiale, le grandi sfide che un domani dovrà affrontare per continuare a proporsi come un nuovo approccio alla leadership e Guido si è prestato a rispondere in maniera, devo dire, gentile e generosa a 360.000 domande. In realtà il libricino poi si legge in poche ore, l'abbiamo voluto rendere agevole, ma è denso di proposte, sollecitazioni e scenari futuri. Sì, infatti il libro è molto molto facilmente leggibile, molto piacevole e insegna anche tante cose. Guido, gentilezza al comando allora. Guarda Enrico, ti ringrazio, io intanto vorrei definire questa gentilezza, che ho usato questo termine accostando leadership gentile obiettivamente per sollevare un'emozione subito di interesse e quasi di fastidio, perché abbiamo cento anni di fordismo, taylorismo mascherato, in cui il comando, il controllo, l'execution, raggiungere i risultati, erano il mantra e sono il mantra di tutti noi. Io ho voluto semplicemente abbinare al fare, l'execution, l'attenzione anche al benessere e la motivazione, quindi al sentire, e chiedermi che cosa sarebbe successo in un mondo che ha le guerre, al cinismo, alla violenza, provare a parlare di risultato in termini di compatibilità con motivazione. Quindi, leadership gentile al comando, direi di no, almeno però qualche passaporto di cittadinanza, chi voglia provare questo approccio e verificare che i risultati ci riescono. Beh, in effetti, bisogna dire che un libro che esorte i manager a adottare uno stile di leadership gentile, come lo avete esposto adesso, tutto sommato implica che di gentilezza attualmente non ce ne sia poi così tanta, no? E in effetti, va detto, le gerarchie fanno un po' fatica a cedere il passo alle famose strutture, snelle, piatte e via dicendo, lo stile di relazione e di comunicazione va di norma più dal bulbero semispocchioso all'autoritario, scillante, piuttosto che non al tossico tu cur, perché c'è anche quello, no? Ecco, allora il minimo che si possa dire è che nel vostro libro c'era bisogno, come viene accolto, come avete verificato, no? Che sia stato accolto dalle gerarchie manageriali nel nostro paese. Beh, qui mi tocca togliere un imprenditore giovane dalle magagne invece della vita aziendale. Beh, Enrico, sicuramente è stata una pietra nello stile, però, ripeto, l'approccio non è stato polemico. L'approccio è stato di far capire che dopo storie di leadership situazionale, transazionale, trasformazionale, da ersi blanchar fino alle novità, il tema che anima tutte le persone che desiderano seguire e sviluppare la leadership è una cosa semplice e semplice, cioè il vero, la vera leader è qualcuno o qualcosa che porta altri dove da soli non sarebbero arrivati. Non è un problema di gerarchie, è un problema di essere un animatore del potenziale degli altri e valorizzare. Ecco, in questo filone con umiltà si va a dire sperimentiamo questo approccio, che è adottabile da chiunque. L'importante è che lo faccia spontaneamente. Ecco, il finto gentile è deteriore. Stiamo lavorando su un approccio da attivare quando ha tempo, modo e sentimento per farlo. Ecco, certamente siamo un po' tutti figli anche di Daniel Goleman, dell'intelligenza emotiva, poi gli insegnamenti di Linda Hill, di Rita McGrath e di tanti altri esperti, voglio dire, di questa materia che invitano appunto a fare quello che tu dici. Ecco, Luca, approfondiamo un attimo però l'incrocio in cui è ricco il libro, proprio tra questo approccio alla leadership e la capacità relazionale di comunicare nel modo giusto e in realtà poi di fare comunicazione strategica. Ecco, come si realizza questo trait d'union? Allora, per usare un'immagine, io e Guido siamo due rive opposte che hanno al centro il grande tema delle relazioni. Se lui la vede dall'alto, dal tema della leadership, la comunicazione strategica detta la scienza delle relazioni studia come comunicare per costruire relazioni che durino nel tempo. Come noi ci occupiamo di relazioni in modo tale da poter raggiungere obiettivi sfidanti in contesti complessi, così giustamente, come diceva Guido, un leader ha bisogno di creare alleanze relazionali per gestire le grandi sfide, alcune generazionali, alcuni incredibili, che abbiamo di fronte adesso. Che cosa deve fare per noi un leader? Scegliere di volta in volta lo stile migliore per creare alleanze. E questo è l'oggetto di studio della comunicazione strategica. La grande sinergia intellettuale operativa tra me e Guido è che lui ha proposto uno stile di leadership, come dicevamo prima, dove accanto al tema del risultato si unisce il tema del benessere e della relazione. Perché, qua cito Guido in un passaggio del libro, nessuno regala il proprio genio a chi non lo valorizza. E quindi il tema della relazione non è come contraltare al tema del risultato, va di pari passo, anzi addirittura va prima. Prima stimi e poi co-progetti intervieni, diremmo in comunicazione strategica. Grazie, sì, mi sembra tutto molto coerente. Tra l'altro questa tua annotazione del genio, che mi stimola sempre la parola genio, quello che disse una volta Einstein, che il genio è 1% ispirazione e 99% traspirazione. Credo che è una cosa che dobbiamo tenere, tutti noi che non siamo geni, dobbiamo tenere sempre molto presente. Quindi la fatica a non fare le cose e a realizzarle con una certa modestia, insomma, e una certa capacità di metterci in connessione con gli altri. Ma l'altro spunto che la parola genio mi fa venire, voi vi ricorderete, quel film di Benigni e Troisi, Non ci resta che piangere. Ah certo. Ecco, a un certo momento Troisi dice a Leonardo, dice, senti Leonardo, adesso basta, insomma ti faccio una cosa semplice, semplice, termometro, no? Ecco, una cosa semplice, adesso vi faccio la domanda, semplice, semplice, in quest'ottica naturalmente, chiunque può diventare un leader gentile o un comunicatore strategico? Tocca sempre a me d'anziano prendermi i calci e lasciare i giovani poi segnare. Qui c'è il tema Enrico, sempre in nato appreso, che ci affacchina sempre. Se no Einstein, se fosse quel genio lì dell'1%, forse il genoma ce la farebbe a soprappare. Ma in realtà noi siamo natura, siamo natural, natural, siamo genoma, epigenetica, ambiente, quindi il tema è togliersi dall'alibi, sono nato, non dico la parola, ma non gentile. Il tema è, posso io sperimentare spontaneamente, quando me la sentirò, un approccio nuovo e vedere cosa succede? Ecco, se ci si dà il permesso, che ci si dà sempre in famiglia, a meno diciamo che si trovi in quelle situazioni in cui si litiga per le eredità, ma normalmente la gentilezza verso un figlio, verso un amico, insomma negli affetti è una cosa abbastanza sperimentata. Il problema quindi è che noi abbassiamo una saracinisca fiduciaria, non inclusiva, in cui andiamo a escludere il mondo da questo approccio. Ma è una follia Enrico, ed è il fatto di abituare il proprio io a cooperare, a cooperare quando se la sente, a vedere cosa succede, piuttosto che a competere su tutto. Chiudo dicendo, quando competiamo su tutto, mi viene la metafora delle tue mucche che litigano il ciuffo d'erba sulle Alpi. A uno dice, guardate l'intorno, ci sono tutte le Dolomiti, ma cosa competiamo con gli Alpi? C'è sempre uno meglio di noi, dobbiamo cooperare. Ecco, se fossimo tutti capaci di allargare sempre la nostra mente agli orizzonti, tutte le cose andrebbero certamente meglio, anche nella comunicazione, Luca, no? Io su questo aspetto sono complementare e con un approccio quasi ancora più tecnico e meno ispirazionale, visto che appunto è lui l'esperto della leadership, ma la comunicazione strategica nasce in contesti con obiettivi sfidanti e complessi, cioè obiettivi in cui, oso dire, neanche il genio riesce a raggiungere un obiettivo da solo. Steve Jobs è stato un grande genio, aveva 120.000 dipendenti che gli hanno permesso di costruire la realtà che adesso è Apple. Per questo occorre costruire alleanze relazionali. Quando? Quando il gioco dimostra che è necessario. Allora a quel punto, secondo il punto del mio ragionamento, vale la regola che ognuno sulla base del proprio talento, se formato, può migliorare. Allora non importa io da che punto parto, so che talento più formazione vuol dire miglioramento. Ci sarà quello più bravo, che correrà i 100 metri alla Jacobs, ci sarà quello un po' meno talentuoso, che comunque performa di più se si allena. L'elemento vero sine qua non non è tanto gli asprocci metodologici che la comunicazione strategica nel tempo ha sviluppato e sta sviluppando, quanto un elemento interno di negoziazione con se stessi. Mi interessa, voglio, sono pronto a mettermi in discussione. Questo vedo, tornando a quello che diceva Guido, è il grande ostacolo, la scelta dell'io di fronte a una prova. Anche questo, Luca, a me fa pensare a una cosa detta, non lo ricordo chi, ma forse tu che sei il maggiore esperto di comunicazione te lo puoi ricordare, che ha detto che molte guerre sono scoppiate perché per motivi di cattiva comunicazione, molto semplicemente i conflitti spesso nascono e si creano e non si riescono dai software, perché non ci si parla o non ci si capisce quando si parla o non arrivano le comunicazioni giuste nei tempi giusti. E poi tu hai citato una cosa che per me è importante. Ricordo che Steve Jobs, quando qualcuno andava a visitarlo lì a Cupertino, la Apple, diceva una cosa di questo genere. Quando gli chiedevano dove è il vostro Department of Innovation, dove si fa innovazione da voi, portami a vedere quegli uffici. E lui li portava nel basement, nel seminterrato, nella caffetteria, dicendo è qui che noi facciamo innovazione, perché è lì che circolano le idee. Quindi ancora una volta gentilezza, se volete, un certo tipo di rapporto e grande capacità di comunicazione, perché poi tutti ci lasciamo andare le nostre idee, scateniamo le nostre idee quando ci sentiamo a nostro agio e non quando ci sentiamo repressi e compressi. Bene Guido, Luca, grazie per essere stati con noi, auguriamoci che il vostro contributo a un mondo più gentile possa avere successo e quindi grazie, grazie anche a chi ci ha seguito e a tutti do un grandissimo arrivederci, un appuntamento al prossimo episodio sull'eccellenza di Harvard Business Review Italia. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie per essere stati con noi. Non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube di Harvard Business Review Italia per non perdere il prossimo appuntamento con l'eccellenza. Grazie.